Ciao ragazzi sono Atte e benvenuti in questo nuovissimo video quest'oggi avrete visto di sicuro la schermata particolare perchè siamo su un gioco Among Us insieme a questo maledetto perchè avrete sicuramente visto il video scorso con Lollo73 e questa volta siamo qui ancora con lui ecco qua Lollo bella bella ecco avrete sicuramente già visto il video con lui su Among Us e devo dire che ha fatto anche quel video aggiungerei ecco quel famoso video di dove lui era tutte le volte in posto rendovi un po' perchè accettava e usava i trucchi no non dire queste cose poi mi bannano ma non è che ti bannano dico solo la verità ecco comunque in particolare adesso siamo a rifare delle partite su Among Us ma se proprio devutirvi questa volta lui non userà i trucchi e lo spero anche perchè se è tutte le volte in postore basta quitto esco dal discord bonk quindi mi raccomando prima di iniziare lasciate un bel like iscrivetevi al canale cliccate la campanellina e mi raccomando in descrizione trovate il canale di Lollo iniziamo direi finalmente ci siamo dopo tre ore di partita tre ore di cercare partita finalmente ci siamo devo dire quindi aspettiamo che saldi la partita ovviamente se Lollo è l'impostore io ho già qualche ho qualche una penitenza da fargli ovviamente no ci sono tra l'altro due impostori e tra l'altro siamo in 15 è peggiorato questo gioco di me è tra l'altro è peggiorato però per almeno per lo meno ci sono i è in italiano perchè se continuavo in inglese mi stoffavo anche un po' le palle l'italiano non lo so non posso dire niente perchè sono morto e poi dall'altro la lobby è piena di italiani la lobby è piena ti hanno ammazzato ma l'ho detto ma come si può allora io non ti posso dire niente perchè perchè farei l'infame il giallo chiaro sei tu il giallo chiaro il giallo chiaro ah ok ah ok aspetta guardiamo in chat perchè è un security visto dalla cam ok bro vai 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 si vota la S ma quindi chi è che vota chi è che vota chi è che votate io voto I'm not sus grande è proprio lui grande Lollo raga per questa volta Lollo spero che non sia l'impostore ma anzi no perchè ha votato lui quindi ci sta quindi I'm not sus è fuori dalle scatole e che poi tra l'altro si è fatto sgammare easy perchè era un impostore e uno è fuori dalle palle quindi faccio le tasche anche perchè sono un fantasma però faccio le tasche perchè normalmente si esploro anche un po' in giro magari trovo trovo magari Gpensi se trovo un impostore a caso sarebbe tipo da comica però vabbè mannaggia oh sbaglio sempre sta task dell'electrical e poi ero abituato a chiamarla electrical ok ma io lo chiamo ancora cioè mi trovo meglio appunto sto controllando ah ok perchè eravamo abituati a chiamarla in inglese allora Stamion vedo che sta facendo la task delle provette ma ho un po' il dubbio che sia lui ma non dico niente perchè perchè non è lui perchè effettivamente credo che la stia facendo credo attenzione attenzione lì poi ti posso dire anche la posizione era in electrical si poi era in electrical io non c'era in electrical quindi non so si che poi tra l'altro uno di quei tipi roundroom ha tipo una cosa strana in testa però chi se ne frega chi è che sta votando è giallo chiaro io e rosso rosso so de roma noi lo si vota so de roma ciao so de roma pure voi siete già in posto vabbè bravi scusate pure io mi ho dato al rosso scusate pure voi ha scritto zero impostori si anche a me ha scritto zero impostori anche a me però se c'è qualcuno che usa i cheat giuro lo ammazzo beh no ti giuro quando fanno così hanno i cheat o qualcosa del genere per me Stamio Stamio non lo sta votando mi sa che si è addormentato è possibile che si sia addormentato a quanto ci mettono a votare Stamion vota si si è impressionante a quanto ci mettono a quanto ci mettono a votare lui è ancora lì fermo che poi ce n'è uno che è l'arancione mi dissocio fortemente dal nome però dai vota 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 cacchio vabbè tra nove secondi mi sa che sei cinque quattro tre due uno buttate fuori il live così almeno se si è addormentato dai oh è fuori ma come ma perché il verde ah ma dici che l'ha l'ha reportato era un impostore ma sei serio rimangono zero impostori vittoria dai le game si gioca ancora che poi tra l'altro io mi immagino c'è la routine adesso eh via le palle ok allora ci sono ci sono io metto una bandana e poi basta anzi no che cacchio faccio io sono il re io sono il re vabbè c'è il re anzi c'è il re del baro del baro in persona sulle mani no non sono il re del baro non è vero sulle mani lasciatemi un follow su twitch Matteo metterà il mio link in descrizione per me ovviamente metterò in descrizione il link del canale youtube del canale twitch ammetto che bene ciao oddio che cacchio che fai tra l'altro mi no mi dissocio totale legge il nome del verde si legge il nome del verde come del verde ma io ho letto quello lì del verde chiaro del verde chiaro ha scritto dioporo no io comunque mi dissocio dalla frase assolutamente allora se c'è qualcuno che mi uccide probabilmente la sua mamma è una grandissima quella che va per strada e chiede 20 euro va bene per vabbè avrete capito solo i solo i più esperti avranno capito mettiamo tutto tutto dentro le foglie ok qua la task dei meteoriti sotto di roma vedo che non sta ah penso che non sta facendo la task ho detto ok 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 nonna mi mancano due meteoriti ok perfetto allora si 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 vedono perché io ho visto tipo perché io ho visto tipo quando sparavo qui Matte sei un cancro di merda no mi dissocio Matte ti ho visto ma come non è vero ma se stavo lì ma ero lì oh dopo vedrai dal video oh dopo vedrai dal video dopo vedrai dalla registrazione non sto facendo niente no ti giuro non sono io hai alte task visibili fra io perché c'è una botola qua ok dettagli boh non lo so ti giuro allora sta facendo la task del reattore adesso e non è una cacchiata ti giuro così donna santa allora per me mi sta accusando lui a caso dopo lui di impostore ero lì ero sotto lì i cosi non si muovevano ma sì che si muovevano ma frate sei cieco che è cieco allora andiamo ci sto provando millenni per fare sta task del 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 coso del reattore adesso sbaglio cadavere cadavere sei morto ma come non può dire a tra l'altro sono morti vacca e e lollo che poi tra l'altro uno si chiama x di io allora non so tutti chissà cosa scrive raga giallo continua a seguirmi so di roma è safe io ho fatto la task del rettore ma io non so chi votare quindi salto il voto chi cazzo chi ha votato schifosi però nessuno è stato espulso pareggio e ci sta come fai a non ricordarti l'assassino allora ma poi fra fra il rosa chiaro è entrato in navigazione e muo è sparito allora non vorrei dire una beffa però io ho visto lui poi non so magari allora reattore pulisce il condotto non è niente è morto ah il rosa rosso scuro mi sa allora rosso giallo vicino al cadavere eh volare potarlo allora vale è entrato è entrata ho entrato in navigation e poi non l'ho visto più non l'ho visto più perché cioè non l'ho più visto se dice se vai non l'ho visto più ma a te cosa sta dicendo ma te non sei italiano sì non so l'italiano io stavo venendo giù ho solo visto verde in comunicazione ah ma sta dicendo a me così avrete le prove mi sono conservato una tasca per chi vuole venga a vedere è quella dove scarico le foglie ma le foglie non si vede sono scesa a fare scudi mi puzza un po' per ora voto voto non mi fido di vale però è rosso va bene se continuiamo a dire rosso va bene dico rosso va bene voto rosso continuiamo a dire rosso è lui non era un impostore quindi è il giallo è il giallo è il giallo quindi non posso cliccare il bottone oh vale se mi uccidi tua sorella è proprio una non voglio dirlo per non essere volgare oh no chi è che vuoi pagare mi dissocio allora io mi dissocio allora lo sapevo erano sti due che palle oh play again play again play again non sono mai stato impostore una volta adesso è impostore pure io divento bianco se alla prossima sono impostore ma te vengo mazzati su l'ha detto eh preparatevi a un sacco di bestemmie io che mi muto e milioni di eh avete capito oh ancora ma basta questo astronauta sempre astronauta mai una volta impostore ho fatto 20 partite in una volta non sono mai uscito mai astronauta non c'è essere incredibile non sono mai uscito in astronauta mi devi dire qualcosa no nel senso non sono mai uscito impostore impostore eh se non fossi mai uscito l'astronata guarda penso che sarebbe la persona che felice del mondo vabbè sono qua con su di roma a fare la task della carta della testa ok accettato grazie arrivederci devo fare la task del 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 refuel station cioè devo caricare il gasolio il gasolio il nero è morto il nero dove che era? stamion e sunnishop io non ero in elettrica a sistemare le luci allora rosso avventato dicono ancora che il rosso avventato ma per me come è fatto il rosso avventato non potevo suonare perché mi dava zero non è vero non è vero lì se c'è che secondo me è self perché ho visto perché ho visto che ho visto caccia di pepe fare entrare entrare in security prima di lui quindi? è self scrivo goku goku e comunque Lazio nooo per tutti quelli che tifano la Lazio mi dissocio totalmente quindi tutti i parei è rosa è rosa secondo me è rosa ma è rosa proprio rosa ma sei tu invece ma che dici ma non sono io sono stato ad attivare le luci aspetta vado ancora ad attivare le luci anche perché inizialmente Raul a posto a posto cosa c'è ancora ok perfetto qua c'è il coso 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a posto ti hanno ucciso fra ah no non ancora ah ok non ancora ok sa qualcosa mi dice che l'hanno ucciso lo sapevo lo sapevo Caio Pepe ho qualche dubbio che sia rosa ecco ah che rosso rosa 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 self report self report eh porco dio no mi dissocio mi dissocio self report quindi hai votato ho votato il rosa Caio Pepe Caio e Pepe ho votato lui anche perché sinceramente dalla reazione che hai fatto lo sapevo quindi sì è Caio Pepe non sono io eh perché hanno sì 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 ti sento perché hanno votato il rosso non c'entrava oh se non è oh era un impostore però l'altro è colorosa l'altro è rosa l'altro è rosa l'altro è rosa però devo devo andare da una parte dove il rosa non mi trovo però sinceramente è una cacchiata devo andare a fare la stask ossigeno 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 sette due nove otto cinque ok perfetto devo andare a cliccare il bottone dai chiama non mi fa chiamare non mi fa chiamare chiuso il pulsante non mi fa chiamare naggia la miseria ma non mi fa chiamare perché non mi fa chiamare adesso metti cheat così diventi impostore super si vabbè oh è rosa è rosa 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 raga ho visto rosa to rosa to ho dato votate rosa perché mi giuro per forza che è rosa ha pure preso la botola eh l'hai visto adesso oh fuori dai eh fuori dalle palle era un impostore oh va bene ragazzi per il video di oggi per il video di stasera ehm si è concluso qui e niente ci vediamo un altro giorno con un prossimo video da me e da lollo 73 a voi linea lo studio